Bella a tutti ragazzi, siamo tornati con lo 2dv1, terza partita contro Shaki FC, 860 punti, mi sa che c'è molta gente che mi ha chiesto di mettere 10 punti per il nostro avversario, e si va, ragazzo serbo, sembra molto bravo, 860 punti, quindi non sarà facile riuscire a vincere con questa squadretta, perché è davvero molto 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 difficile vincere, chi lo sa, lo vedremo, ho deciso comunque di sottoconsiglio di qualcuno di commentarle in live, nelle partite, e poi magari tarle perché non lo faccio, non lo so, non lo so, e poi si fa, se mi riferisco magari commentarle adesso, e si parte, con un raid da Z, e di testa, ti attraversa, una testa, perdiamo una 0 ragazzi, contro Shaki, una 0, iniziamo male, questo lotto di diviso 1, Shaki ci ha pulcatolo, questo lotto, attenzione, eccolo, 1 a 1, mamma mia che azione, di Esmai Lainfer, 1 a 1, fino a qui, che prestazione, attenzione, attenzione ancora, la squadra araba, 2 a 1, go, lasso, e segna sempre lui, Esmai Lainfer, tutto solo, Salah, 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 ha fatto un po' come voleva adesso, la nostra parte ragazzi, dai, avanziamo, 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 Bankston, 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 no, non è finita, non è finita, Bankston, attenzione, ultima azione, Bankston, Bankston, 3 a 2, Ray Abazè, 3 a 2, tutto facile, insomma, 3 a 2, finisce così, mamma mia, che partita, cardiopalma, bellissima, 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 mi sono molto divertito, bravo, complimenti al mio avversario, ovviamente ha giocato di più, perché, avendo il Liverpool, è pure normale, però si può notare com'è, i passaggi riusciti, io abbia fatto più passaggi, abbia fatto più parate, lui abbia, non abbiamo preso gli stessi passaggi, insomma, è andata bene, è andata bene, il passaggio fa l'ha addirittura di secondo me, lui ha giocato molto, diciamo, a subentrare nella, nella mia area, cercando di segnare, ma, tutto facile, 3 a 2, prendiamo ben 102 punti, contro un ragazzo di 860 punti, bravissimo lui, e mi sono molto divertito, puntiamo alla seconda partita del giorno, porterò due partite al giorno, insomma, su questo rotto di visione qua, insomma, non, magari non ogni volta un video al giorno, però, massimo due partite su questa serie, abbiamo Jordan ACJ09, 770 punti, iniziamo già a trovare avversari più forti rispetto a ieri, però, ci siamo riusciti, come ben potete vedere, 3 su 3, con lo ZOM ANC, è sì, un ottimo risultato, contro la Francia, la Francia che non ha incantato ai mondiali, massimo originale, per esempio, come già dicevo, dicevo, non ha incantato ai mondiali, questa Francia, però, comunque, è riuscita a vincere, contro, non si può accanto a connessione, boh, va, va, ha vinto il nuovo 1, ma, ah, con l'Australia, l'Australia è una squadra un po' tosta, chiaramente, però, penso che la Francia possa arrivare molto facilmente, l'Argentina è l'unica che potrebbe fare la sorpresa, che non passa il girone, per la Germania io penso che ce la fa, cioè, ma, quindi, mi hanno incontrato il Messico, l'Apulia, la Svezia, l'Apulia del Sud, almeno con la Corea del Sud, devi fare i punti, con l'Apulia, l'Apulia del Sud, che, insomma, esca la mondiale, sarebbe, un po' da parte, e niente, vabbè, intanto, esaminiamo i nostri giocatori, i nostri eroi, Mazaheri, il portiere, Nejad Maidi, difensore numero due, Mohamed Zadeh, numero tre, Drax Nafar, 24, San Gargir, 35, Medipur, 6, Esmail Afar, che è uno dei giocatori top della partita precedente, Palleman, con il numero dieci, Mamma mia, Alex Del Piero, un po' per gli amici napoletani di Dormando Baradona, e niente, si inizia, la partita, la seconda parte del giorno, questo Rote Division 1, molto difficile, è stata molto isolata la partita di prima, però, alla fine ce lo dobbiamo battere, l'importante è quello, e l'importante è non perdere neanche una partita, e sennò, è l'ultima partita del giorno, non è più bello, diciamo, voglio cercare di non perdere neanche una partita, quindi, stiamo a vedere, beh, inizia, questa seconda partita del giorno, inizia, col battere, c'è Bankston, per Palavan, per l'ultima azione della partita, sono a Medipur, 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 cerca spazio, ma è tutto chiuso, Bankston, si gira, Bankston, non va, attenzione, Bankston, Bankston, 1-0, Zoban, eccezionale, 1-0, contro Jordan, AFC, due tiri, due gol, lui ne fa zero nello specchio, va bene così, andiamo avanti, secondo tempo, non è finita, c'è l'entusiasmo da parte degli iracheni, uh, bellissimo, Oseini, 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 Bankston, 2-0, Bankston, che giocatore, Bankston, mamma mia signori, che giocatore, non so per stare, metto in pausa, sto facendo qualche cambio, 2-0, fin qui, entra l'H6, attenzione, 1-2, scambio veloce, Medipur, Medipur, 3-0, la Zoban, mamma mia, inarrestabili, inarrestabili, Bankston, Bankston, 4-0, Bankston, Bang, no, no, 4-1, ci sta, posso non meritare la B, e va bene, ma già, si vince un gol, tanto tempo, mi sta, ma va bene così, è importante vincere, non è risultato, è importante vincere, San Gargin, San Gargin, una serie di finta anche per noi, pensate che, questo avversario si divertiva per le più, diciamo per noi, l'ultimazione, ma finisce così, 4-1, per la Zoban, e si contro la Francia, di Antoine Griezmann, abbiamo un 6-5, 7-4, su pagina dei stessi passaggi, l'ho fatto 2-cross, 2 parati, di quello mio, 0 calcio in angoli per 1, aia, migliore in campo, Bankston, come una mitraglietta, un nuovo battistuto, e vediamo adesso, vediamo, allora, noi ho ottenuto 84 punti, e, adesso hanno il mapponore, di tutte le partite, abbiamo fatto, in effettore, dal sotto scaliamo, la divisione 9, siamo in divisione 9, statistiche, risultati finora, qualsiasi sono i nostri risultati, 8-2, 6-1, 2-3, partita molto, 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 un battuto bello, e in 4-1, Jordan, bravissimo Chaki, è stata molto divertente, e niente ragazzi, spero che il video, vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale, e, ciao ciao!